Siamo qua per manifestare il nostro dissenso e per chiedere il commissariamento della Regione Lombardia per quanto riguarda la sanità. Chiediamo un intervento anche sufficientemente veloce perché, ahimè, pare che questa pandemia, per quanto i dati siano in discesa, si pensa possa riprendere quindi per non trovarci in altre situazioni come quelle che abbiamo vissuto. Noi vogliamo un servizio sanitario universale, gratuito, pubblico pagato dalle tasse della Fiscalità Generale Vogliamo il privato cuore dalla sanità, vogliamo gli investimenti sulla prevenzione e soprattutto non siamo più disposti ad accettare, ad ascoltare l'arroganza di chi dopo tutto quello che è avvenuto non sente neanche la necessità di chiedere scusa Andatemi è tutto bello, abbi il coraggio di scogli italiani, non diventare poveri responsabili di questa prevenzione La gestione di questa pandemia è stata terribile da parte della Regione sulle comunicazioni, sulla chiarezza dei protocolli, sull'utilità di certi protocolli sul tempo, nel più recente, il tempo che intercorre tra il sierologico e il tampone penso che abbia causato per molte scelte molti morti in particolare per la questione dell'RSA e di Alzano Nembro, la Valseriana Si cerca almeno di manifestare fisicamente qualche cosa oggi che si può dopo aver discusso e creato anche molta comunità online per la prima volta ci si vede, anche ci si riconosce che non si è da soli a pensarla in questo modo e che non si è da soli a pensarla in questo modo Grazie